La realizzazione di una nuova strada per collegare l'attuale interquartieri con la statale 16 è da sempre un argomento dibattuto, anche se sempre è stata prevista all'interno dei piani regolatori della città di Fano. Un progetto molto difficile, un progetto molto delicato, un progetto che è stato anche contestato, ma è l'unica soluzione possibile per snellire il traffico da Porta Maggiore alla Gimarra lungo la statale 16. È l'unica possibilità e allora devo prendere atto che la Regione Marche ha boicottato sin dall'inizio questo progetto ed è stata minacciata da me di adire alle vie legali affinché firmassero un protocollo d'intesa. Ed è anche vero che le cose fantasiose, le prospettive fantasiose di alternative a quel progetto in queste ore raggiungono veramente un livello altissimo di banalità. Non ci sono soluzioni facili per risolvere un problema, ma certamente le soluzioni di passare con 20 milioni parallelo all'autostrada è un progetto impraticabile. La Regione ha boicottato questo progetto. Il tempismo con cui il Ministero ha risposto e l'arrivo oggi di un senso segretario al Ministero dei Trasporti nella città di Fano a rivendicare questa eliminazione non è sospetta, è certamente programmata per mettere in difficoltà la città di Fano, per dimostrare come il governo di centrodestra toglie soldi alla città di Fano e toglie possibilità di sviluppo alla nostra intera comunità. Non esisteva un altro modo per spendere quei soldi, erano destinati a quella viabilità. Abbiamo fatto di tutto, anche con contrasti interni alla maggioranza, per risolvere un problema di viabilità. ci ritroviamo con un Ministro che invece di programmare gli stessi fondi nella programmazione settennale 21-27 gli annulla e se ne fa vanto. Questo non va bene per la città di Fano, questo è un problema della città di Fano. Il candidato sindaco Ser Filippi ripete sempre che lui è l'unico insieme al Movimento 5 Stelle ad aver votato contro quella previsione di strada e ricorda bene, infatti il candidato sindaco Marchegiani del Movimento 5 Stelle è sempre stato a favore di questa strada e ha votato tutti gli atti che abbiamo portato in Consiglio Comunale e fino a qualche mese fa sosteneva fino in fondo questo progetto.